verde, rosso, bianco ciao, dovrebbe portare bene, fu così che l'Italia perse il 12 bella a tutti da me, e niente, live reaction, non c'ho la panza è semplicemente uno scaldotto perché comincia a far freddo me lo metto sotto la panza detto questo ragazzi miei, stasera appunto Nations League Italia, porco cazzo e portogallo, vediamo come andrà a finire ci serve una vittoria, e poi alla prossima ci serve un casino di quelle esagerate, perlomeno non andiamo mai stati in serie niente serie B, vai che la sigla, live reaction ci vediamo tra poco stanno a consegnare pisello d'oro a Chiellini come the best pisello on the spogliatoio 2018-2019 c'è anche la medaglia, credo sia meritata perché guardando la foto insomma c'è del materiale da prendere in considerazione sì, eccolo che lo alza al cielo, fai vedere bene l'uccello del Chiellini in scala ok, perfetto questo è l'inno che non ci interessa, a me ci interessa quella viva la patata ma che cazzo sta da dire bravi, bravi viva la patata, sono tutti bassi uno, due, tre, non ce ne sta uno alto oggi stringiamci assorche, siamo pronti alle porche, siamo pronti alle porche Giorginio cantò siamo pronti alle porche, siamo pronti alle porche le ha chiamò, si sono partiti dai 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 mortacci tua bravissimo vogliamo il gol di Volucci così ho fischiato Volucci ciucci, ciucci, ciucci anzi no, vogliamo il gol di Chiellini ini, ini, ini eh ma che cazzo di palla gli ha messo dai fa' sto cazzo di gol che gli ha parato ehi i mortacci dei tu madri dai vaffanculo sto cagandosso morco due eh oh emel la metti se palla a mezza eh vaffanculo che cazzo di cazzo di cazzo di me mortacci sua ha parato Donnarumma eh c'è stava mappi a golle eh porco dios vaffanculo è finita che coglioni eh